cari miei amici siamo qua con mia amica che voi conoscete Giada Giada è diventata mia vera amica passiamo bene bene tempo Giada canti guarda di là bello oggi una prova così vedete c'è qui c'è bel parco qui guardate che bella panorama guardate che bellissimo ecco qui Giada saluta tutti guarda che bella panorama siamo qua oppa siamo qua si sta bene fuori vi ringrazio di nuovi iscritti vi ringrazio tantissimo sono contenta che mi guardate che il mio canale va avanti io faccio video veloce senza sigla senza troppi pensieri tutto dritto dritto senza giri senza molto molto naturale di vita di mia vita di tutti i giorni bello mi piace anche così davanti contetta Giada ti parli con me capito che ha detto capito che c'è lei che vedi qua la mia mano si primavera è bellissima è proprio bella primavera guardate 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 sull ginocchia diretta qui c'è diretta Giada oi quanto pesi ma sei 29 anni quasi 30 ui 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 va bene ora meglio si ma quanto pesi ti è guardate 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 ma sei mia figlia tutti pensano che sei mia figlia guardate guardate amore sei ti sai ti sai sederci su ginocchia vero guardate come mi abbraccia indietro mia carezza amore sei non sapevo che sei così già da amore che sei cari amici vi saluto vi ringrazio che mi guardate sono molto molto contenta vi voglio bene aspetto nuovi iscritti mio canale mio piccolo canale arrivederci da me e da Giada Giada tratta da borse dai saluta amici saluta ciao ciao brava bravissima ma tu parli prima raccini da primi volte quando era con me ora parli dai salutiamo salutiamo tutti ui 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 ancora sul ginocchia mamma mia ma sei cucco' la cucciola davvero guardate 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 ui 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 u basta saluta tutti saluta ciao 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 amici